eccoci qui ben ritrovati ben ritrovati un saluto a tutti come state vi ricordo come sempre di commentare numerosi di lasciare un bel like qui sotto iscrivetevi da questa parte attivate la campanella siamo quasi 110.000 su questo canale youtube quasi 25.000 sul mio canale personale al quale vi invito a iscrivervi un canale di breaking news di analisi di commenti dove anche oggi mi sono un po scatenato andando a mirare un po su certe tematiche quindi vi invito a iscrivervi se avete ancora fatto potete andare e tornare 10 secondi avete fatto tutti tutti e qui sotto c'è anche il podcast di van basten che vi aspetta per essere visto no dimenticavo nel video precedente una dichiarazione che secondo me è un po la fotografia del momento del milan ripeto secondo me paolo fonseca è una brava persona è un professionista serio è uno che si impegna però non ho mai visto come un top gamma e purtroppo dopo questo inizio non è che sto cambiando idea anzi sinceramente mi aspettavo meglio poi è l'inizio sempre che poi arrivi fino in fondo un'altra frase che mi ha colpito molto perché siamo oggi al 25 agosto è stata detta al 24 di agosto è io sono responsabile non scappo da prima la prima parte io sono responsabile c'è presa di coscienza c'è assumersi le responsabilità è molto apprezzabile cosa che lo scorso anno io non vedevo da parte di pioli che tendeva sempre a buttare la palla in mischia o a nascondersi un po rispetto alle proprie responsabilità a livello mediatico dall'altra parte la frase io non scappo dopo due partite ci fa capire che il momento da un punto di vista sportivo parliamo di calcio ci sono cose più importanti ma dal punto di vista sportivo momento delicatissimo barra drammatico perché sembra una frase di un allenatore che dice io non scappo quando magari vive la crisi di dicembre o di gennaio o di febbraio dice noi uno scappo sentirsi dire anche giustamente dopo due giornate uno scappo è la fotografia ripeto di un inizio shock di un momento delicatissimo complicatissimo e quasi drammatico perché siamo il milan siamo la c milan può essere un inizio normale ma preoccupante per una squadra che deve lottare per non retrocedere una squadra che è il milan questo inizio drammatico e c'è dell'altro allora innanzitutto spero mi riconosciate una caratteristica cioè quello di dire le cose che penso di non guardare in faccia nessuno che sia un nostro beniamino che sia un nostro dirigente personalmente ritengo che un buon servizio è se essere sinceri prima di tutto con se stessi oltre che con gli altri dire quello che si pensa nel bene o nel male anche se questo può dare fastidio a qualcuno o si risulta scomodi o impopolari o non amati o non ben accetti in certi contesti non mi interessa nulla ebbene parto con ibra anzi arrivo poi da ibra vado sul discorso rafaleao rafaleao ieri ha fatto una partita in cui ho dato 5 e mezzo rivedendo un po la partita forse sono stato anche generoso vedendo un po i numeri lui ha fatto 90 minuti un assist 55 tocchi 70 per cento passaggi riusciti 28 su 40 un lancio lungo non riuscito che ha un peso specifico importante tra poco ve lo faccio vedere una grande occasione creata 0 tiri in porta 3 tiri fuori un tiro bloccato tra dream riusciti su 5 due lì ai re vinti 0 su 1 due lì a terra vinti 3 su 6 17 palle perse un fallo 7.6 la valutazione su foscor quindi molto buona a me non dà l'idea di aver fatto un partitone un paio di fiammati nel primo tempo e l'azione del gol con l'assist importante sicuramente molto importante per me è poco per me è poco per poi guardare un tifoso tanti tifosi poi lo vedremo con questa espressione qui come se avesse fatto una tripletta in cinque minuti questa è una cosa che io credo non vedrò mai da un giocatore come pulisic ad esempio mai da un giocatore come reinders ci sono giocatori giocatori c'è maturità e maturità in quel momento stai pareggiando la partita non la stai neanche vincendo c'è pulisic con la palla in mano per tornare a metà campo e ce le ha o che è l'ultimo a rientrare perché perde tempo a zittire un tifoso tanti tifosi perché ha fatto un assist che è né più né meno che fare il suo dovere che dovrebbe fare però nell'arco di 90 minuti con continuità e non a sprazzi è un'immagine che davvero non mi è piaciuta e devo dire che poi il resto oggi o nella notte non so quando l'ho pubblicato secondo me è anche peggio perché Rafa Leao poi dice quello che lui tiene a dire a precisare è che non ce l'aveva con la curva che sono i veri tifosi perché gli altri evidentemente per lui non sono i veri tifosi i veri tifosi sono quelli della curva gli altri non sono tifosi quindi Leao assegna patente di tifoso di serie a e tifosi di serie b Rafa Leao il gesto non è mai stato non sarà mai per la curva su da scritto perché loro mi hanno sempre sostenuto nei momenti più difficili probabilmente sono gli unici veri tifosi gli unici veri tifosi che ci accompagnano nei momenti difficili il gesto è andato a un tifoso specifico uno che nel momento in cui stavamo perdendo ha fatto un commento negativo nessun giocatore del Milan entra in capo per giocare male apposta onoriamo questa maglia da inizio a fine di ogni partita andiamo per punto quindi lui dice ce l'ho con un tifoso lui perde tempo perde energie si arrabbia per un tifoso che ha fatto un commento negativo quando la squadra stava facendo male non so se sia vero se è vero è peggio ancora che rivolgersi a tanti tifosi significa che lui in campo invece di concentrarsi sulla partita con l'orecchia si concentra su quello che dice un tifoso e da importanza un commento negativo di un tifoso ma vi rendete conto questo è sinonimo di deconcentrazione poi ci poi ci chiediamo perché a volte lo vedi lì c'è un donante deconcentrato perché sente un tifoso quello che dice un tifoso che ha il diritto di fare un commento negativo se la squadra sta facendo pena per non dire schifo diciamolo e poi dice nessun giocatore del minan entra in capo per giocare male apposta ma va ma veramente ci mancherebbe altro che qualche giocatore di minan scenda in campo per fare male apposta onoriamo questa maglia dall'inizio alla fine di ogni partita no questa cosa no non vedo onorare la maglia dall'inizio alla fine ultimamente quando si ciondola quando non si rientra probabilmente a campo quando non si ricorre all'avversario non è onorare continuerò a rischiare come ho sempre rischiato questo è ciò che mi rende diverso ora questo rendere diverso sempre c'è questa in bocca è sempre la bocca del rendere diverso ragazzi se sei diverso farla la differenza in maniera costante non cambierò il mio modo di giocare perché ho rischiato la partita di ieri è passata vorrei concentrarmi sulla prossima battaglia curva sud sempre con voi quindi la toppa peggio del buco dice che i veri tifosi sono quelli della curva gli altri tifosi sono tifosi acqua di rosa occasionali e con una immaturità incredibile dice che se la presa con un tifoso era meglio non dirla questa cosa qui perché un giocatore deve essere concentrato sulla gara non sentire il commento di un tifoso ma vi rendete conto quanto sia imbarazzante tutto questo episodio e la spiegazione quanto sia grave perché ci rappresenta in maniera ancora più plastica quello che pensiamo in tanti di leao c'è un giocatore con potenzialità enormi ma che non riesce a mettere tutto sulla palla che non riesce a concentrarsi questa è la prova lampante ma ragazzi ma davvero cioè zittisci perché hai fatto un assist per di tempo perché hai fatto un assist io sono incredulo poi ve lo faccio vedere in tutto questo no perché lui forse quando dice il rischiare è perché c'è la coscienza sporca il secondo gol adesso lo vediamo meglio posiziono meglio il monitor poi prometto che primo povera dei mezzi migliori ma non è facile ecco guardate leao che a palla invece di dare la pulisic tra le linee che a campo fa questo lancio orribile rischioso sì ma secondo me anche inutile e poi ovviamente ancora l'avversario no questo questo si ferma e la palla va ci fanno anche gol non sto dicendo che colpa di leao il gol è colpa di tanti ma è anche colpa di leao che ieri non ho mai visto andare in fase di non possesso a ripiegare nella nostra metà campo questa per me è una pagina scandalosa che riguarda rafaleao che sempre solito c'è la fiammata e poi sparisce poi la fiammata e poi sparisce ma arrivare a zittire a non concentrarsi sulla partita per un commento di un tifoso a dire che i tifosi veri sono quelli della curva è qualcosa di scandaloso che mi fa scendere rafaleao a livello di considerazione purtroppo poi io ricordo poi social sempre sti social sedorf veniva fischiato e ha vinto un botto di champions league ha vinto tutto veniva fischiato e rispondeva in campo non sui social non c'erano ma non avrebbe mai usato i social per rispondere ripeto anche in maniera clamorosamente toppata e poi c'è ibra su quale però voglio poi concentrarmi con un video dedicato ho fatto il mio post oggi non scrivo molto sui social però ho scritto una cosa che che penso terribilmente dov'è ho scritto la riassumo poi approfondirò ibra della lesione più grande va avanti per slogan che hanno annoiato non si rende conto che ha già esaurito i crediti del suo grande passato da calciatore da dirigente all'esperienza di uno stagista meglio come influencer ha oggi un mezzo disastro oltretutto è presuntuoso ecco ibra prima della partita si presenta ai microfoni e dice comunque leao ha stancato e dice petto in fuori spalla indietro la mia squadra completa abbiamo creato le coppie ogni giocatore ha anche il suo il suo cambio siamo a posto così la squadra è completa poi siamo a giorno 6 su 7 se riusciamo poi vediamo è ma dove sono le coppie? spiegatemi un attimo dove sono le coppie io vedo che se manca Morata non abbiamo un attaccante e già c'è una lacuna calamorosa vedo che a centrocampo non abbiamo mediani Fofanà basterà boh vediamo ma se manca Fofanà siamo adattati manca il vice Teo Hernandez forse a livello di difensori ne mancherebbe anche uno poi non parliamo della qualità del mercato che per me non è quello che dovevamo avere e lui dice con presunzione siamo a posti poi questa cosa qui del Dio ha creato il giorno, i sette giorni siamo al giorno 5, siamo al giorno 6 ragazzi ma a voi diverte no perché dite magari sono io a me è stancato questa frase qui diverte lui e chi gliela consiglia ma vi sarebbe consigliare di cambiare un po' registro Ibra delusione enorme ma gli dedicherò un video approfondito poi non si fa la propria idea e ha la propria idea come giusto che sia e poi dice no perché se mettiamo giocatori tarpiamo le ali al Minam Futuro questa è l'altra è l'altro slogan clamorosamente non aderente alla realtà un po' come quando Furani diceva non vogliamo comprare tanto per comprare e chi vuole comprare tanto per comprare ora è non vogliamo tarpare le ali perché c'è il Minam Futuro un bel alibi per non investire ulteriormente come si deve poi vedi prima giornata Camarda non lo chiama nemmeno non chiama nessuno il Minam Futuro però possiamo dire questo abbiamo la scusa e nessuno ci può dire niente perché c'è il Minam Futuro ragazzi male 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 malissimo ibra delusione enorme non siamo a posto così e poi peggio ancora dopo la partita si presenta ai microfoni no no non ci mette la faccia quelli che contestavano a Maldini dove sono non ci mette la faccia ibra parleremo del fatto che sia andato in montagna in gita influencer cose magari domani ditemi che ne pensate di tutto commentate numerosi qui sotto lasciate un bel like iscrivetevi qui attivate la campanella grazie per la partecipazione sempre con civiltà e con rispetto mi raccomando iscrivetevi al mio canale personale che trovate qui sotto nel link un abbraccio a tutti forza mia oggi più che male ma ne ancora di più ciao ragazzi